Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Oggi ci sono solo io, Lala, e vi parlerò di Pit. Allora, oggi vi parlerò di Pit, un gioco che attualmente è edito dall'Asbro. Sono rimasta, diciamo, stupita in modo favorevole scoprendo che questo non è affatto un gioco nuovo, anzi, è un gioco molto vecchio. Vi farò un po' la storia dello stesso. Se volete schippare e vedere come si gioca, potete andare nell'info box dove ci sono tutti i link di navigazione e andare nella parte che vi aggrada di più del video. Questo gioco è nato nel 1904 e venne pubblicato dalla Parker & Brothers. Si basava sulla contravendita di materie prime. È uscito proprio in quell'anno per, diciamo, contrastare un altro gioco che ebbe molto successo, che si chiama Gavits Stock Exchange. Se volete vedere di cosa si tratta, capirne le regole per confrontarle a Pit, sono molto molto simili, potete andare sul blog. Il link si trova sempre nell'info box. Vediamo perché questo gioco si chiama Pit. Anch'io ero un po', diciamo, scettica, perché Pit significa pozzo, insomma, qualcosa del genere. Questo perché è ispirato al Chicago Board of Trade, noto come The Pit, e si ispirava anche a US Corner Exchange. Infatti, inizialmente, tutte le merci che c'erano erano relative al campo dell'agricoltura. Infatti, c'erano grano, orzo, mais, segale, avena, fieno e lino. Altri nomi di questo gioco sono Business, Deluxe Pit, Cambio, Quick 7 e Zoster. All'inizio c'erano solo delle carte dentro una piccola scatolina portatile e in seguito, negli anni 70, fu aggiunto il campanello. Adesso, la catola è diventata totalmente di plastica, che è facilmente portabile e il campanello è integrato. Aprendola, ci sono delle istruzioni molto chiare e, diciamo, varie serie di carte. In particolare, ci sono 74 carte. Il gioco è adatto da 6 anni in su per 3-8 giocatori. Più siete, più vi divertirete. Alla fine di questo video potete vedere un gameplay che abbiamo fatto con i nostri amici, perché questo gioco deve essere giocato in tanti. Vediamo che le carte sono relative appunto a delle merci che potete comprare sul mercato. Quindi c'è il mais, l'oro, lo zucchero, l'arancia, il caffè, poi la mucca, quindi credo il latte, il petrolio e la lana. Ci sono due carte speciali che terremo un attimo da parte per spiegare il gioco classico. Ognuna di queste serie è composta da 9 carte, quindi dovete scegliere un numero di serie pari al numero di giocatori. Se giocate in 4, quindi sceglierete solo 4 serie. Quindi all'inizio del gioco, se non avete le carte divise, dovete usare un po' di tempo per appunto dividerle. Una volta che avete diviso tutte le carte, scegliete le serie pari al numero dei giocatori. Quindi se giochiamo in 3, prenderò soltanto 3 serie. Le altre verranno accantonate. Il campanello verrà messo al centro del tavolo in modo tale che tutti quanti vi potranno battere sopra. Il mazziere di turno mischierà le carte e ne darà un numero uguale a tutti i giocatori. Quindi essendo 9 carte di ogni tipo, ognuno riceverà 9 carte. Quando tutti sono pronti e hanno preso in mano le proprie carte, per dare il via, il mazziere suona il campanello. Da questo momento la borsa è aperta, quindi si possono vedere le proprie carte e decidere cosa scambiare con gli altri. In questo caso io ho la maggioranza di zucchero, quindi decido di scambiare ad esempio il petrolio. Ho due carte uguali di petrolio, quindi comincerò a dire 2, 2, 2. Se qualcun altro ha due carte da scambiare, allora anche lui dirà 2, 2, 2, quindi potremmo fare lo scambio. In questo caso quest'altro giocatore non ha due carte, ma se ritiene che lo scambio con due carte può essere vantaggioso, può anche spacchettare le sue carte uguali, ad esempio scambiarne altre due di petrolio. In questo caso lo scambio sarà un po' inutile perché si scambierà petrolio con petrolio. Andando avanti nel gioco si potranno vedere le carte che si scambiano più frequentemente e magari cambiare il gioco. Chi riuscirà a fare 9 carte della stessa merce potrà suonare il campanello e sarà il vincitore del round. Ogni round dura molto poco, può durare tra qualche minuto fino a 5-6 minuti. Adesso vi mostro come si fa il gioco con le due carte speciali. Allora, le due carte speciali sono nello specifico un toro, che è il jolly, quindi è una carta positiva, e l'orso, che invece è una carta negativa perché vi farà perdere punti in quella manche. Usando queste due carte dovete considerare anche il punteggio che hanno le singole carte. Infatti all'angolo ognuno ha un valore, ad esempio il petrolio, tutte le carte del petrolio valgono 85, lo zucchero vale 60, il caffè 65. Le carte che valgono di più sono quelle dell'oro. Consideriamo che noi giochiamo sempre in tre giocatori, quindi aggiungiamo queste due carte e mischiamo. In questo caso due giocatori avranno due carte in più, quindi non avranno 9 carte ma 10 carte, ma questo non fa niente. Quindi si daranno le carte a tutti i giocatori. Allora, a cosa servono? Vi ho detto che il toro è un jolly, quindi vi sarà utile quando dovrete arrivare a fare 9 carte. In questo caso potete avere 8 carte e il toro per cliccare il vostro campanello. Invece l'orso è una penalità, infatti chi ha l'orso avrà una penalità a fine partita. Ma come si scambiano l'orso e il toro? Questi si possono scambiare insieme alle altre carte. Ad esempio, voglio scambiare due carte di zucchero, invece di dire due dico tre e ci metto pure l'orso. Possono essere scambiate con qualsiasi carta. E' importante però che il toro comunque è una carta positiva, però se rimane in mano alla fine di una partita vi farà perdere 20 punti. Quindi se qualcun altro suona il campanello prima di voi e voi avete in mano il toro perderete 20 punti. Invece l'orso alla fine della partita vi farà perdere 40 punti. Colui che vince con una serie segnerà il punteggio della serie completa, quindi 60. Chi arriverà prima a 500 sarà il vincitore. Potete scegliere anche un altro punteggio invece che 500, più alto o più basso. Un gioco semplificato per i bambini più piccoli si può fare con 6 carte di ogni serie invece che con 9. Adesso potete vedere un gameplay fatto con i miei amici. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 2,2,2,2,1,1,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 1! Per quanto riguarda questa edizione del gioco della Hasbro che si trova attualmente nei negozi, e anche su Amazon, casomai vi lascio nell'info box il link per comprarlo, vi ricordo che questo link è affiliato quindi a voi non cambia niente, noi riceviamo una piccola percentuale che investiamo per comprare altri giochi o materiale tecnico in questo gioco ci sono delle carte molto carine, ogni serie di carte è costituita da una sorta di scenetta quindi mettendo in sequenza le carte potete ricostruire questa scenetta, quindi a me è venuto un utilizzo alternativo di queste carte a ogni partecipante potete dare una serie completa, a lui e a tutti quanti girano le proprie carte e devono rimettere in ordine la sequenza corretta ad esempio c'è il mais che dorme, poi si fa giorno, si sta facendo giorno, il mais si sveglia, poi il mais inizia a sudare inizia a sudare, sì, quindi, no, ci va prima questa, perché le carte sono molto vicine tra loro conseguenzialmente quindi poi comincia a produrre pop corn e ne produce sempre di più quindi tutti quanti devono fare una sequenza, ce ne sono altre, ad esempio questa con la mucca, questa con la pecora che è molto carina perché si fa un maglione e chi per primo riesce a fare la sequenza esatta suona il campanello e è il vincitore fatemi sapere nei commenti se questo gioco vi è piaciuto se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video ci potete seguire anche su facebook e su instagram, i link sono nell'info box grazie di aver visto il video, alla prossima, ciao!